Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, con grandissima felicità e anche sorpresa, devo dire, perché era già un po' di tempo che lo stavo aspettando e un pochino me l'ero anche dimenticato nella lista dei boardgame che usciranno quest'anno, arriva in Italia Zombicide Dead or Alive, o meglio Undead or Alive, versione di Zombicide ambientata nel West, gioco, come sapete, cooperativo dell'ACMON, in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia, che io, come sempre, ringrazio immensamente e di cuore. Ed è sempre un onore, ovviamente, è un grandissimo piacere poter collaborare con Asmod Italia. E in questa versione che vediamo qui davanti si trovano delle regolucce dedicate anche all'ambientazione stessa, perché lo sapete, Zombicide ha sempre lo stesso regolamento, però aggiungono sempre quella regolina in più che lo differenzia dalla controparte fantasy o magari futuristica, giustamente, e avremo valanghe di zombie nel vecchio West, che è un'ambientazione che, personalmente parlando, io adoro veramente alla follia e forse, ma dico forse, candidata a diventare il mio Zombicide preferito anche su Zombicide Invader. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Zombicide undead are alive, in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia, è un gioco cooperativo da uno a sei giocatori, dove il meglio è sempre cercare di fare una partita con almeno tre giocatori, così che ciascun giocatore utilizzi due personaggi. Perché questo gioco, il manuale, consiglia di gio... per neofiti, mettiamola così, non veterani di Zombicide, di usare un personaggio a testa. Ma sappiamo tutti quanti benissimo che Zombicide non è il gioco da un personaggio a testa, ma ne dovete tenere sei. Quindi un giocatore che se lo fa in solitaria, perché c'è anche la variante in solitaria, deve tenerli tutti e sei. Se siete in due, tre personaggi a testa, anche perché ci vuole talmente tanto volume di fuoco e dadli da arrotolare sul tavolo, perché arrivano orde di zombie, cioè non andate a combattere 4-5 zombie, ma inizio partita. Già nel secondo e terzo round, e come qualcuno passa di livello, ce ne avrete 30 in tutta la mappa. E come sapete, le regole di Zombicide vogliono che quando vi arrivano in corpo a corpo, vi colpiscono automaticamente. La mappa di gioco è divisa in tile e in zone, in quadranti, come qualsiasi altro Zombicide, e la cosa forse un pochino differente dagli altri, innovativa, è che all'interno, vi ricordate, quando viene aperta una porta, si generano nuove zone di spawn. Ma dov'è questa zona di spawn? Praticamente prima si andava a girare tot carte per stanza, ora non è più così. Già sulla mappa c'è, vedete, delle coperte che vanno a coprire il disegno dei morti, e in quella zona si genererà automaticamente un'altra zona di spawn. Ci dovete andare a mettere la targhetta della nuova zona di spawn di colore bianco e vorrei dire che d'ora in avanti, nella fase di generazione degli zombie, inizieranno a spawnare anche da lì. Però quelle zone le potrete distruggere con l'acqua santa, o nel caso con l'acqua della classe, quella religiosa del gioco, perché questa volta è il gioco anche delle classi. Ci sono quattro classi, come ad esempio il lottatore, il pistolero, il cittadino, l'altro, se non erro, il fedele, mi sembra, comunque la controparte religiosa. Laddove il pistolero sarà quello che potrà fare vento al cane con la pistola, quindi con qualsiasi tipo di arma, revolver, pistola, colt, cose del genere, potrà invece che sparare un colpo, ne potrà sparare sei, sparando peggio, perché invece magari di colpire al 4+, andrà a colpire al 5+, però sparerà tutti e sei colpi che ha nel caricatore e potenzialmente potrebbe abbattere sei nemici, che è una cosa buona. Il lottatore invece ha la regola della carica, che può muoversi non di un quadrante con un punto azione, ma di due e arrivandoti in corpo a corpo attacca, senza sprecare ulteriori punti azione, quindi con un punto fa la carica e attacca. Il cittadino, che a differenza di tutti gli altri, può cercare quante volte vuole in un edificio, perché l'azione di ricerca è soltanto dentro gli edifici e una volta per turno, quindi un'azione per turno. Lui le può sprecare anche tutte e tre per cercare dentro l'edificio, perché i cittadini sanno sempre, no, come è fatta la città dove è nascosta la roba, ma, avendoci vissuto, ma soprattutto ha negli edifici linea di visuale ovunque, mentre invece gli altri personaggi hanno linea di visuale soltanto a una stanza di distanza. E poi c'è la classe del fedele, la classe religiosa, che è bellissimo, che trasforma l'acqua in acqua santa, quindi quando ha trovato una bottiglietta d'acqua, per lui conta, cioè anche gli altri possono craftare l'acqua santa, però lui come trova una semplicissima, che ce n'è molte nel mazzo degli oggetti, bottiglia di acqua, automaticamente per lui è un'acqua santa, e l'acqua santa serve o per spostare le zone di spawn decise dal libro della mappa di gioco, e quindi usando a distanza 0-1 l'acqua santa, potete prendere una zona di spawn, non distruggerla, ma spostarla dove volete, così che magari le mettete tutte da un lato, che non vi danno fastidio, o se siete in cima alla mappa nord, le mettete tutte a sud, così prima che gli zombie venivano addosso ci metteranno un po' di tempo, o invece per proprio distruggere le zone di spawn mobili, quelle dentro gli edifici. Quindi quelle dette poc'anzi bianche, di quando andate a sfondare la porta di un edificio, quelle saranno completamente distrutte. Il sistema di combattimento è sempre lo stesso, cambia leggermente il sistema di rumore, un'arma tira tre dadi, colpisce al 3 o più, colpisce al 4 o più, e fa magari un danno. Tirate i dadi, ogni tiro che ha superato il minimo ha colpito, e fanno quelle ferite. Gli zombie, ci sono sempre diambulanti, corridori, i bruti, sono sempre gli stessi, gli abomini, come vi arrivano corpo a corpo, colpiscono automaticamente, quindi se vi ritrovate in corpo a corpo, con degli zombie, e in quel turno vengono attivati, tutti gli zombie che avete addosso fanno una ferita. La partita finisce quando un solo, uno solo, dei sopravvissuti muore, quindi anche se uno su sei muore, avete perso la partita, perché gli eroi si devono salvare, oppure quando siete impossibilitati a fare gli obiettivi. Per qualsiasi ragione del gioco, obiettivi scritti nella missione, non lo posso più completare, missione persa, la missione si vince, giustamente facendo tutti gli obiettivi. Cambia la regola del rumore, ora abbiamo il rumore bang, e dall'altra parte il rumore boom. Bang, ovviamente per pistole e armi normali, che fanno rumore, non da corpo a corpo, boom per la gatling, perché c'è anche la gatling ovviamente da postazione, che fa uno sbotto di danni, e la potete anche spostare in giro per la mappa, caricandovi la spalla, oppure per la dinamite. Il boom vince sempre sul bang, quindi se c'è una mandria, un'orda di zombie, che non ha linea di visuale su nessun gruppo di giocatori, perché gli zombie vanno prima di tutto con la visuale, non vedono nessuno. C'è qui un bang, e ce l'hanno visibile, e qua giù in fondo c'è un boom, loro faranno la strada per andare verso il boom, perché ovviamente un candelotto di dinamite che esplode, fa molto più rumore del colpo di una colt nevi, ad esempio, però un boom si può anche fare, con la regola speciale, detta poco anzi del pistolero, quando fa vento al cane, che spara veloce, spara tutti e sei colpi nel tamburo, in quel caso lì, fa talmente tanto casino, che conta al pari di un boom. Ed è bellino, perché questa cosa qui del bang, attira gli zombie, però vi segue, perché a fine del turno successivo, quando tutti quanti i bang vengono tolti, perché il rumore è andato via, a parte il boom che si trasforma in un bang, il bang vi segue, quindi il bang sarà sempre addosso, nella stessa casella e location, del numero di sopravvissuti più ampio, quindi se c'è un sopravvissuto, un sopravvissuto, un sopravvissuto, tre separati e tre tutti insieme, quei tre fanno un casino bestiale, quindi il bang li seguirà, e nel caso gli zombie andranno dietro a loro, ma ricordatevi che gli zombie vanno a vista, quindi anche se avete un boom, in cima alla mappa, e due sopravvissuti in mezzo alla strada, gli zombie vanno verso i sopravvissuti, quello come sempre. In conclusione, questo zombie side, Undead or Alive, è secondo me un'altra eccellente espansione, che espansione è uno stand alone, comprate e giocate, non serve avere nient'altro, però vabbè, espansione nel mondo, nella lore di gioco, perché gliel'avevano chiesto particolarmente tanta, l'Akmon avete fatto il futuristico, avete fatto il fantasy per gli amanti, boh di HeroQuest, avete fatto quelle tempi nostri, per The Walking Dead, dai ci manca qualcosa, quale altra ambientazione bella c'è, oltre lo spazio, il medioevo, il west, e quindi secondo me, è la trovata giusta, con qualche regoluccia, ma ragazzi sono regolucce d'ambientazione, poi il gioco è lo stesso, ho letto un regolamento, ho letto tutti, però qualche cambiamento, qualche piccolezza, c'è che ovviamente, tipo come l'acqua santa, che ho apprezzato per distruggere, e mi sono dimenticato, la parte religiosa, il fedele, lui è veramente bello, secondo me, perché c'è anche, una volta per turno, può usare, tipo il chierico di Dungeons & Dragons, infatti ecco, con le classi, sembra un po' un gioco di ruolo, come il chierico di D&D, c'è a scacciare non morti, e lui può mettere il simbolo sacro, in una zona, dove ci sono degli zombie, e quegli zombie, quando arriva la loro attivazione, anche se c'è un abominio nel mezzo, perdono l'attivazione, quindi nel caso, si dovessero muovere, perdono l'attivazione, ovvio, se poi viene girata una carta, e nella carta, c'è l'attivazione di loro, si muovono, ma inizialmente, perdono il primo movimento, perché praticamente, lui con la, con la forza della fede, li blocca, ed è una figata assurda, ragazzi, il gioco consigliato a tutti, di tutte le età, qui lo consiglia, ovviamente dai 14 anni in su, boh, zero, per me zombie, sai, ci può mettere anche un ragazzo di 10 anni, anche perché, cioè, è tirana valangata di dadi, quindi anche se, a livello di lettura, le carte, le caratteristiche, a me è facile, cioè, un accanto che ti spiega un po' le regole, ti dice, vai, prende te, c'ha 5 dadi per attaccare, con questa arma, tira lì, e tutto quello che esce, fa 4, 5, 6 colpito, non è che ci vuole tante, è molto semplice come gioco, e in questa variante, nel vecchio West, è veramente bella, poi dei colbinari, col treno, con la missione del treno, con la gatling, il carrettino, no, è veramente una figata, e poi le miniature sono sempre, all'Akmon, di altissima qualità, ed è un gioco, veramente, veramente spettacolare, che, se siete amanti di Zombicide, non vi deve mancare, io come sempre ringrazio, Asmoditalia, per averci offerto questa copia e recensione, se lo volete ordinare, sempre, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla giocolibreria Semola, nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito, della giocolibreria Semola, digitate, Zombicide, Undead or Alive, e questo in lista, è finito, pallino rosso, oppure proprio non c'è, perché nel catalogo, magari non c'è, scrivete una mail, al supporto, a Corrado, al proprietario, della giocolibreria Semola, e fateli presente, che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, lui farà il possibile, per trovarvelo, sempre al miglior prezzo sul mercato, anche giochi, fuori catalogo, e questo è quello, che io vi dico sempre, differenzia la giocolibreria Semola, da altri negozi, perché un altro negozio, lo contattate, guarda, mi interesserebbe un altro gioco, Tainted Grail, no, no, non ce l'ho in lista, non c'è, mi dispiace, no, Semola invece magari, si adopera per trovarvelo, quindi anche, ovviamente reperibile, perché se un gioco è uscito, otto anni fa, non lo trovi nemmeno con incantesimo, però, a quel punto lì, lui cercherà, di trovarvi l'oggetto, il gioco da voi desiderato, se ancora è reperibile, e ovviamente si può trovare, da comprare per rivendere al negozio, farà il possibile per trovarvelo, quindi è un servizio, che secondo me, lo fanno pochi, anzi, permettetelo, quasi nessuno, ed è veramente eccellente, e usate sempre, il codice discount, Coridan7, scritto tutto maiuscolo, cliccate sul discount, al momento dell'acquisto, che avete la roba nel carrello, Coridan7, per avere uno sconto del 7%, e per spese superiori ai 79 euro, in questo caso, non pagate le spese postali, e in 48 ore vi arriva in tutta Europa, lo ordinate, state in Francia, in Svizzera, o da altre parti, vi arriva in 48 ore a casa, non pagate le spese postali, e usando il mio codice, avete anche il 7% di sconto, che, insomma, è veramente interessante, quindi, Gioco Librile Semola, è un servizio eccellente, e siamo sempre contenti, di collaborarci, ragazzi, ancora grazie, ancora una volta, a Asmod Italia, come sempre Cmon, quando si tratta di Zombicide, e tirare fuori giochi del genere, non lo va a snaturare, che è qualcosa, che magari qualcuno, potrebbe non apprezzare, però io amo, perché se un regolamento funziona, è inutile che me lo distruggi, però, ci mettono, ci mettono sempre, le piccole aggiunte, che lo vanno a modificare, per l'ambientazione, appunto, corrente, in questo caso, il vecchio West, ciao ragazzi, alla prossima, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno, un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre, di iscrivervi anche, al canale Facebook, al canale mio, di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione, aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre, la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao, alla prossima!